Finale, quinto e sesto posto, ottava edizione, trofeo Milano solidale, si affrontano al centro sportivo cimiano di Milano, Zurich e Fiduciaria o Efici, Zurich e Schiera, Albrizzi, Del Pino, Aspari, Filotello, Galli, Bosia, Moscara, Spedicati, Vietri, Arseni e De Noia. Giucciario Efici risponde con Francesco Vedani, Agelo Tuffano, Carlo Vedani, Francesco Tuffano, Di Figlia, Muretti e Pagliari, Di Figlia, perché Agelo Tuffano che si gira, costringe la paratola, due volte, Albrizzi, Moscara di destro, pugno, calcio d'angolo, Francesco Vedani, la battuta, attenzione, c'è l'autorete di Pagliari sul calcio d'angolo, Mosia, Moscara, prova a destra, Moscara, in piedi, Francesco Vedani, dice di no, Mosia, che prova a destra e trova il gol del 2-0, Mosia, il raddoppio di Zurich, Muretti, non c'è fallo, la posizione di ripartenza al 1-2, con il piattone vincente di Vietri, 3-0, Zurich. I seni, spedicati, il pallone messo in mezzo, due volte, Murati tentativi, De Noia, Pietri, diagonale alla porta è vuota, e c'è il tocco per il 4-0, il favore di Zurich, Di Figlia per Muretti, che trova il gol della bandiera per Fiduciario Refici. Tutto l'angolo da Di Figlia, direttamente in porta e deve volare per salvare due volte, Albrizzi, Cesco Tufano, Di Figlia, cerca di ribassare per il destra e trova il 4-2, e avvicina di mezzo al gap di Cervio Refici. Ora Zurich, uno degli ultimi affondi, di tardi traversone, Mosia, e poi la zampata del 5-2. Vietri, Patrizzi in campo aperto, e ancora Moscava, sempre lui il capitano. Porta vuota, finisce anche il match, dunque, Zurich si impone 6-2 su Fiduciario Refici nella finale per il quinto posto. Allora, terminata questa finale per il quinto posto, si imposta Zurich 6-2 su Fiduciario Refici, abbiamo qua il capitano di Fiduciario, stasera è provato a fare che c'entra avanti alla fine, niente da fare, potevi giocare fino alle 6 del mattino e non pareggia avanti. No, oggi, noi purtroppo ci mancavano 3-4 giocatori importanti, lo sapevamo, veniamo qua per divertirci, Zurich ha giocato decisamente meglio, noi abbiamo un'età media attorno ai 50 anni e la tecnica e l'età alla fine ci hanno penalizzato. Complimenti a loro, poi partita bella, corretta, quelle che piace giocare a me, insomma. Capitano a Moscava, hai messo due zampati alla fine, come dire, capitano solo io, devo segnare anche io, se no non va bene. Sì, dovevo mettere anche io il mio zampino, ci tenevo, ci tenevo ancora di più a concludere, diciamo, al meglio il torneo, e volevamo il quinto posto, ce l'abbiamo fatta e siamo felici. Voi vice e sesti, insomma, forse potrete sperare qualcosa di meglio. Siamo contenti così e non vediamo l'ora di iscriverci l'anno prossimo cercando di fare meglio. Anche voi appuntamento all'anno prossimo. Appuntamento all'anno prossimo, stavolta sperando di vincere. Grazie, datevi la mano, al prossimo anno. Ciao.